Bella raga, ciao a tutti dai cumendoni veneziani ragazzi Piccolo appunto della situazione cumendiano, che non può che non lo faccio Allora fioi, partiamo con GTA V che doveva cominciare la serie in live e tutto Purtroppo non la posso cominciare perchè il gioco viene rinviato ogni volta e mi stanno abbastanza girando i coglioni Stessa cosa per Project Car, è abbastanza vergognosa a mio parere Vabbè, piccola parentesi GTA I live, in questo momento ne sto facendo pochissimi, anzi proprio perchè FF sono molto molto impegnato E' venuta anche mia ragazza, un casino, quindi veramente i live torneranno sicuramente Come Football Manager assolutamente perchè dobbiamo continuare, siamo arrivati a novembre E con la carriera dobbiamo continuare assolutamente con altri giochi Purtroppo PES diventa un mito l'abbandonata per vari motivi Mi piace fare la Master League però boh, non lo so, scusate ragazzi un momento un po' Particolare onestamente perchè vedo anche che comunque il tubo sta un po' calando Nel senso, non tanto le visualizzazioni mi piace, vedo poco interesse, ecco mi dispiace Ma vedo una cosa un po' generale, non sul mio canale, un po' là per tutto E mi dispiace perchè è un po' Total War, cioè veramente sarebbe una serie che ti gasse se qualcuno la segue Perchè vedere sta Venezia, sto impero veneziano che conquista l'Europa e ci sono due persone che la guardano Un po' mi dispiace, quindi perdi un po' di, come si dice, di grinta su giochi così Ma vabbè ci sono sempre sorti giochi di calcio quelli che vanno, però vedremo insomma Da adesso, non lo so, chiaramente più si va avanti con la vita reale, impegni, lavoro, robe più difficili Io cerco di fare il massimo, però, ripeto, mi dispiace che sempre di più certi giochi sono proprio non considerati E' un peccato perchè ma nei suoi giochi di calcio sai che comunque ti gasi anche se ti seguono tre persone Su un gioco come Empire, che è un gioco anche più difficile dove devo starci più dietro di tutto Fly Simulator, che mi dispiace ma di avere pochissime persone Perchè ripeto, soprattutto Empire è un gioco che va seguito perchè la storia, le conquiste, le stronzatine qua Niente così, insomma, dai raga, io spero di ritrovare presto con un live su Football Manager, che è quello l'obiettivo Comunque vi ringrazio sempre per il supporto, sempre lo zoccolo duro veramente del Kumend è devastante Quanto vorrei fare un raduno per conoscervi di persona, siete veramente dei pazzoidi Perchè seguire il Kumendone così costantemente è solo dei pazzi, posso non farlo Quindi ecco, vi ringrazio tanto, diciamo, quello che posso dire comunque nel canale Adesso farò un po' di previsioni fino a fine anno, perchè le previsioni mi sono sempre piaciute Poi sono anche i video abbastanza rapidi, nel senso che quindi posso fare anche nei momenti che magari come adesso sono straimpegnato Così per cercare di tenere il canale un po' aggiornato Quindi previsioni sicure, poi GTA appena esce partirò con Video Mod, Video Vaneggio, Cazzeggius Football Manager Live insieme, vediamo che altro gioco, ecco, magari FIFA potrei provare PES, mi piacerebbe fare la Master League col Palermo, non so perché ho questa idea di fare la Master League col Palermo Però non so se farà da solo per i cacchi miei o nel canale E niente fioi, GP4 ho pronto ad installarlo, non va proprio su Windows 8.1, mi dispiace E niente fioi, speriamo che esca anche FIFA, e se ciao, Formula 1 il prima possibile perchè avrei proprio voglia giocare a F1 Va buon raga, ascolta, ci sentiamo, alla prossima, un saluto dal QMD, veneziano, ciao!